Abysmal in Il Ritorno di Giaffare al Addinfusto Quinte Bosca Storo in Timon e Pumbastego. Toros Bulba e Paddy Hacking Dark in Dakar and Benjo in Daitarni e Papai Narcobaleno Voce Narrante. In Twipsy Frankenstein JR, in Frankenstein JR, Voce Narrante in Cera Una Volta. Pollonsadon in UFO Robot Goldrake Walter e Signor Garcia in Candy Candy Padre di Bia. Boss e Joker in Bia. La sfida della Magia Taka e Ryu il ragazzo delle cavernero Daimus in Slayer Sipa in. Izenborg Generale Dotsule Zabi, 1 a 100 circonflesso voce, Emma Kub, 1 a 100 circonflesso voce, In Gundam Eshmof, 2 a 100 circonflesso voce, in Gai King, il Robot Guerriero Toragoro, 2 a 100 circonflesso voce, In Daltenius John Inbal Dios Professor Uri Nastro Robot Contatto Y Sanshiro Curenai Nudo. Boy Ladro Cancelletto 4 in Aladdin e il Re dei Ladri Ariete Cancelletto 1 in Coda. Fratellor Su Amaso In Gig Robot D'Acciaio Skipper In Planes. Fratellor Su Amasi Taka e Ryu La Di De 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 Grazie.